Pasta, zucchine e vongole con magic cooker. Ho fatto aprire le vongole in una padella con olio e aglio con il coperchio a fiamma media. Le tolgo dalla padella e le tengo da parte e filtro anche il liquido che si è creato. Nella stessa padella metto ancora un po' di olio, l'aglio e le zucchine grattugiate, un po' di sale, coperchio, fiamma alta per qualche minuto. Poi ci aggiungo la pasta e l'acqua, un bicchiere d'acqua ogni 100 g di pasta secca, messo acqua e liquido dell'apertura delle vongole. Copro e faccio cuocere a fiamma alta fino all'inizio bollore. Do una mescolata e poi fiamma bassa per il tempo indicato sulla confezione della pasta. Però quasi verso fine cottura ci aggiungo anche le vongole, alcune col guscio e alcune lo sgusciate. Regolo di sale, rimetto il coperchio e finisco la cottura. Saporitissima, cotta in pochissimo tempo senza dover far bollire l'acqua per la pasta e sporcando solo una pentola.